No, io sono in montagna, tecnicamente sono nel bel mezzo delle uniche due settimane di riposo lontano da casa di cui potremmo soffrire quest'anno, tecnicamente, perché nella pratica sono sommerso da questo. Ma non è anche una scrivania, immaginatevi! Poi ci si stupisce che mi vengono pure in mente degli demo al Sam e per se i video! qui, ora anzi un corno no, ne metto non vi metto neanche la sigla tanto, non avete capito oh Dio, ma ancora qua stai? ti ho detto di lasciarli là io mi sto danniando, lo sai che quando mi annoio mangio? allora, sapevi che dovevo unire su a studiare, giusto? sì bene, allora, trovati un hobby vatti a fare un giro trovo qualcosa per impegnare il tempo non so dove andare c'è il torrente qua vicino io non nuoto perché in un torrente montato tu vorresti pure nuotare anche io l'abbiamo incontrato, anzi ma dici che la corrente è tanto forte dove? dove? qui tu basta che ti riesci a dare da tutto bene davvero? certo tu poi aspettami un po' di settimane che ti vengo a recuperare la focce oh signore ma dai ma state un po' dei libri sto studiando da tre ore in interno ti sei venuta giusto sempre per prendere un bicchiere d'acqua beh, in effetti io un po' di pausa potrei anche farlo adesso ecco, bravissima allora che te ne fai una partita a gatti come il campionato ma si dai che sarà ti faccio fare un po' di pratica quindi se teniamo conto che ho gli ori fino al l'otto si il pante il pante due setti ma con tutti i sei cinque del mazzo tre scoppe diciamo 15 a 1 scusa quando è che avresti imparato a giocare tu? te lo ripeto stamattina mi hai sognato quell'altro ah meno male ma mamma mia insomma io mi rendo conto di tutto però non puoi far diventare questa stanza un bunker per rifugiati Lara shh non fare un rumore guarda per sentirti sentirci chi tesoro? il giapponese il giapponese si il giapponese shh non muovere niente nel suo habitat se cambi qualcosa lui poi mi sei rivolto a conto il giapponese ti si rivolta contro si non sembra ma è furbo ok tesoro potrebbe sembrarti un'idea balzana però credo che un po' di aria fresca di tanto in tanto potrebbe gioverti si oddio